un po' al portiere e non ci ha pensato due volte per tirare da quella distanza scaricato in rete una bordata di CDA è una rete questa che vale da sola il prezzo del biglietto un missile che ha sorpreso tutti, compreso il portiere vediamoci questa rete, gustiamocela da una prospettiva diversa si riparte con la Juve in vantaggio nel punteggio Montolivo